Indosso ancora i paramenti che sono stati usati per la celebrazione nel pomeriggio di questo venerdì santo nella commemorazione della passione della morte di Gesù e sono molto contento di poter registrare questo saluto, questo augurio, grazie alla collaborazione del giornalista dottor Gabbani e che sarà mandato io spero a tutte le persone che fanno parte delle 12 comunità parrocchiali che mi sono state affidate. In questo venerdì santo come dicevo abbiamo commemorato la passione e la morte di Gesù, in qualche modo idealmente abbiamo accompagnato Gesù sotto il peso della croce e in questo procedere con la fatica del patibolo sulle spalle non abbiamo potuto dimenticare l'umanità intera che oggi in queste giornate, in queste settimane si ritrova con il patibolo della sofferenza e della minaccia per la vita e tutte le altre conseguenze che conosciamo causate dal coronavirus. È un momento nel quale pur nella solitudine delle nostre chiese non manca comunque il ricordo e la preghiera intensa per tutte le persone che siamo in qualche modo vittime di questa pestilenza. Nello stesso tempo sappiamo benissimo che il venerdì santo porta con sé un germe di grande speranza. Questa speranza io la raccolgo lì dove Gesù tra le ultimissime parole che pronuncia sulla croce affida a Maria il discepolo prediletto Giovanni e al discepolo viene affidata Maria e mi sembra che in questo prendersi vicendevolmente cura non possiamo non riconoscere le gare straordinarie di solidarietà che ci sono in questi tempi di prova ma non solo. Questi mi piacerebbe vederle proprio come l'immagine, l'icona di quella solidarietà che Dio continua a avere nei nostri confronti. Ed è proprio questa la speranza che noi celebreremo domani sera nella veglia pasquale. La speranza che diventa certezza della risurrezione di Gesù. Questo Gesù che ancora una volta ci affida il compito di saper portare con impegno tutte quelle rinunce che ci vengono richieste in questi giorni. E così allora il mio augurio a tutte le famiglie, tutte le persone che mi possono ascoltare dai ragazzi, ai giovani, gli adulti, gli anziani, è che nell'aiuto vicendevole che prima di tutto si sperimenta dentro le nostre case possiamo scoprire la forza straordinaria della risurrezione. La risurrezione di Gesù, dirà l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, è il centro di tutta la nostra fede. E se non crediamo che Gesù è risorto dai morti, lui dice siamo da compatire più dei pagani. Ecco, il mio augurio è proprio questo, che questa fede magari raggiunta e vissuta con fatica, con sofferenza, possa diventare un vero motivo di consolazione e perché no anche di gioia. Il mio augurio è che sia una Pasqua di gioia e questo augurio lo voglio mandare anche assieme, sicuramente all'augurio che viene dai miei collaboratori Don Mario, Don Vincenzo, Don Damiano, Padre Walter e Padre Claudio. Buona Pasqua a tutti. Grazie.